Mario Savarese, sindaco di Arde, ha indagato dalla procura di Velletri per presunti abusi edilizi. I gnoti hanno presentato un esposto anonimo che segnalerebbe la presenza nel giardino della villa del primo cittadino di un manufatto in legno e di una tettoia non in regola. Sul caso, che sta destando molto scalpore, è intervenuto direttamente Savarese, che ha rilasciato una dichiarazione con la sua versione dei fatti. È giusto che i cittadini vigilino e che pretendano che sia il sindaco a rispettare le leggi per primo ha affermato. A Nuova Florido ho acquistato una villetta dotata di una mansarda non abitabile. Chi mi accusa ne sospetta un uso improprio, ma la polizia locale, che è venuta a controllare, ha potuto verificare che non c'è stato alcun cambio nella destinazione d'uso. L'esposto fa riferimento anche ad un manufatto abusivamente realizzato nel mio giardino. Effettivamente ho costruito una casetta in legno per ospitare la caldaia e lo stoccaggio dei pellet. Le norme prevedono la realizzazione di manufatti per uso non abitativo. I tecnici incaricati stanno verificando se i parametri di legge siano stati rispettati. In caso contrario interverrò come mi sarà indicato, anche se questo dovesse comportarne lo smantellamento totale. Intanto si è dimesso il capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, Felice Saccente. Tuttavia i motivi sarebbero slegati da questa tegola che si è abbattuta sul primo cittadino. Sembra infatti che la decisione sia stata presa per questioni di natura personale.